ciao tarte amici di tarte youtube tv mi avete beccato stavo gustando la cioccolata e che oggi di cioccolata la balleremo quando donna 8 aprile domenica 8 aprile sono andato alla fiera del cioccolato a taranto e ho voluto fare qualche ripresa c'era molta confusione quindi non sono riuscito a riprendere molto perdonatemi però qualcosa è venuta fuori quindi cianci alle bande, bando alle cianci vi lascio il video e dico già adesso seguitemi sui miei social sono qui sopra e condividete il video se vi è piaciuto far iniziare a vedere se anche a voi piace il cioccolato velo sotto nei commenti iscriviti se ancora non l'hai fatto iscriviti se ancora non l'hai fatto clicca la campanellina per essere sempre avvisato e sempre aggiornato sui nuovi video avremo molti blog molti video diversi anche con delle collaborazioni che dire ah va ad esempio iscritto di cambio naturalmente iscriviti sotto e iscriviti nella vostra canale detto questo vi saluto ci rivediamo al prossimo video che è una fiera che è una fiera che è una fiera di cioccolato Ora c'è il macello. No vabbè, no vabbè. 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 No vabbè.